Michele Ebeling, Dalla del Club, tanti giornate oggi di visite mediche, fra una ventina di giorni si riprende le tue sensazioni, ormai a pochi giorni dalla ripresa della stagione. No, oggi abbiamo già un primo accenno della nuova stagione, ieri abbiamo fatto esamere sangue e il resto, oggi stiamo facendo visite mediche. Comunque ormai abbiamo capito che sta iniziando la nuova stagione perché stanno arrivando tutti quanti, è già arrivato Packer, adesso credo sia in quarantena e Fantoni, siamo qua che stiamo lavorando, quindi noi ci siamo e abbiamo voglia di ripartire. Anche tu immagino avrai voglia di ripartire per una stagione tua, personale, importante, ma anche per la squadra. No, sì sì, assolutamente, ho lavorato duro tutte le state con Nando Maione, siamo stati qua, c'era anche Spiro, abbiamo lavorato duro, abbiamo guardato cosa abbiamo sbagliato la scorsa stagione, abbiamo cercato di migliorarci, adesso possiamo metterlo in pratica, vedremo. Per chiudere gli obiettivi tuoi personali e quelli del club? Personali sicuramente sarà quello di cercare di avere più responsabilità all'interno della squadra, sicuramente di conquistarnele, e con il club bisogna vedere perché ci ha messo in un altro girone in cui Ferrari non c'è mai stata, è tutta un'altra stagione, quindi dovremo affrontarla con massima serietà, come abbiamo sempre fatto e non ci faremo dopo. Grazie. 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 Grazie.